Buongiorno, buon sabato 4 settembre, come di consueto benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus, primo appuntamento con l'informazione sulla 7, fra poco i temi principali sui quotidiani li andremo ad analizzare appunto nel commento, nell'analisi dei quotidiani oggi in Edicola, ma chiaramente l'argomento centrale resta quello politico, legato all'obbligo di vaccino preannunciato dal Premier Draghi nel corso della conferenza stampa dell'altro ieri, un tema che continua a far discutere all'interno anche della maggioranza stessa, con la posizione contraria di Salvini all'interno di una Lega che pure vede alcuni importanti esponenti invece favorevoli. Salvini conferma comunque la volontà di rimanere all'interno della maggioranza proprio per senso di responsabilità, di non avere nessuna intenzione di mettere in difficoltà il Governo, però certamente questo è un argomento che fa discutere e che chiaramente crea tensioni all'interno appunto delle forze politiche che supportano il Governo Draghi. Anche il Movimento 5 Stelle in un secondo momento ha fatto capire che c'erano delle perplessità rispetto al Green Pass, ieri il leader del Movimento Giuseppe Conte ha fatto un distinguo, ha detto ma insomma siamo d'accordo se necessario, scusate l'obbligo vaccinale e il Green Pass, siamo d'accordo se necessari in alcune situazioni di assembramento. Insomma staremmo a vedere una situazione ancora apparentemente magmatica, vedremo quale sarà poi la prospettiva. Poi c'è il tema Afghanistan, l'insediamento del Governo è stato rimandato, probabilmente avverrà oggi da parte dei talebani, si lavora a livello diplomatico per instaurare un dialogo e soprattutto per creare i presupposti per un rapporto insomma importante e proficuo sul piano degli aiuti umanitari e dei corridoi umanitari. Quello che chiaramente preoccupa è il terrorismo, considerata anche la notizia che il kamikaze che aveva causato la strage dall'aeroporto di Kabul era stato scarcerato proprio dai talebani. Andiamo, cominciamo la lettura dei giornali, cominciamo dalla Corriere della Sera, ecco qui il titolo d'apertura. L'obbligo di vaccino agita i partiti, allarme dei presidi sulle classi senza mascherine, se tutti gli studenti sono immunizzati si rischiano discriminazioni. Le parole virgolettate di Salvini, siamo contrari ma restiamo nel Governo, dubbine 5 stelle, però Conte non chiude. Poi l'editoriale di Massimo Franco che fa un'analisi titolata Cambio di gioco relativamente a quelli che sono i rapporti tra l'esecutivo e le forze politiche che lo sostengono. Mario Draghi, leggiamo soltanto l'inizio, Mario Draghi sta definendo il rapporto tra il proprio Governo e i partiti in un modo che potrebbe far pensare ad un rimodellamento delle gerarchie istituzionali con Palazzo Chigi in un ruolo quasi tolemaico e il sistema politico e parlamentare impegnati in un dibattito animato ma anche separato dalle sorti dell'esecutivo. In realtà questa apparente scissione tra premio e maggioranza che lo sostiene dipende dalle condizioni eccezionali che hanno portato alla formazione di una condizione vicina all'idea di unità nazionale. Poi lascio a voi il compito, se lo vorrete, di approfondire. Ancora dalla Corriere della Sera la Lega Divisa vuole evitare un voto di fiducia e poi il forum di Cernobbio. La fiducia nella ripresa, la crescita sarà più forte. Insomma, sarà fatta una valutazione di quelle che sono le aspettative delle imprese, degli imprenditori. Insomma, la crescita sarà più forte. C'è molta fiducia in questa ripresa. Peraltro supportata, insomma, come abbiamo visto nei giorni scorsi, dai numeri sul PIL, in parte, in piccola parte, anche sul calo della disoccupazione. Ancora di spalla, Afghanistan, mistero su Massoud. I talebani preso il Panjshir e i ribelli negano la resa. Guerra di propaganda tra talebani e ribelli. I primi annunciano di aver preso il controllo del Panjshir, gli altri negano di essersi arresi. Giallo sulla morte di Massoud, alcune voci lo danno in Tajikistan. Ancora dal Corriere della Sera, la fotonotizia a centropagina, il rugo, perché a pochi giorni dall'incendio che ha distrutto il grattacielo di Milano, ieri a Torino, uno stabile ha preso fuoco, feriti e famiglie evacuate, forse le scintille di una saldatrice al lavoro su una cassaforte nelle manzarde, appunto di questo stabile, proprio nel cuore del capoluogo piemontese. Lasciamo il Corriere della Sera, proiettiamoci su Repubblica, vi segnalo questo reportage dell'inviato Pietro del Re a Kabul in viaggio con l'esercito talebano, e qui c'è la foto abbastanza emblematica, barba corvina, occhi ferini, il talebano doganiere ci guarda incredulo. Obbligo di vaccino, sono favorevoli 8 italiani su 10, questo è interessante perché Repubblica ha effettuato un sondaggio, dicono sia Green Pass, anche gli elettori di Salvini, i fratelli d'Italia, e il partito con più consensi seguono Lega e Partito Democratico. Ci fermiamo per la pubblicità e poi seconda parte della nostra rassegna stampa. Fra poco. Di nuovo buongiorno, seconda parte della nostra rassegna stampa, siamo ancora sulla prima pagina della Repubblica per segnalarvi questa intervista realizzata da Annalisa Cuzzocrea, l'ambasciatore nato Ponte Corvo, che dichiara che governano un paese che non conoscono il riferimento ovviamente ai talebani. Ricordiamo l'ambasciatore Ponte Corvo è stato tra gli ultimi ad abbandonare il paese. Poi più di 100 evacuati, Torino, giorno di fuoco e paura. In centro decine di attici distrutti. Lasciamo la Repubblica per vedere insieme la prima pagina della stampa. Vaccini e Green Pass, l'Unione Europea sta con Draghi. Gentiloni, non si dia cittadinanza politica ai Novax, ma Salvini insiste. Voteremo no e staremo al governo. Il commissario europeo elogia Palazzo Chigi, l'Agenzia del Farmaco. La scelta aspetta i singoli stati. Non aspettino noi. All'interno l'intervista realizzata dal direttore della stampa Massimo Giannini proprio al commissario europeo Paolo Gentiloni. Poi gli altri temi. Quirinale, Mattarella, il Premier, il senso dello Stato. Cingolani, Conte, la battaglia atomica. Il ministro per la transizione ecologica è entrato un po' nel mirino del suo stesso partito per alcune affermazioni sul nucleare, ma Cingolani in specifica, nucleare pulito, nuove centrali che potrebbero insomma risolvere tanti problemi. Ancora dalla prima pagina della stampa il dibattito. Caro Cacciari, ogni libertà ai suoi limiti. Vladimir Zagrebelsky che risponde all'intervento di ieri di Massimo Cacciari. Il tema è sempre quello dei vaccini, della vaccinazione obbligatoria, del Green Pass. Insomma c'è una contrapposizione di idee che la stampa continua a proporre. Ancora la fotonotizia. Eccola qui, a fuoco un palazzo in centro, 5 feriti e 100 evacuati. Feriti per fortuna senza grandi conseguenze, gravi conseguenze. e quei ricordi in fumo nelle case bruciate. Lasciamo la stampa, siamo sul messaggero. La prima pagina, passo obbligatorio in azienda. Il piano del governo da ottobre, certificato verde, richiesto in tutte le imprese private. Apertura dei sindacati, ma i tamponi siano gratis. Il nuovo picco di contagi nelle RSA. E poi la carezza del fisco sulle cartelle, più tempo per rateizzare i debiti, lunedisca del termine per la rottamazione. Il vertice, Draghi-Macron, focus emigranti. Kabul, il dialogo tra Unione Europea e talebani. Ecco i 5 punti per trattare. Poi questa fotonotizia. Svizzera, la prima donna a scandire il tempo sulla cattedrale. Un'antica usanza, un'antica tradizione. Cassandra Bardos, vedetta nella cattedrale di Losanna. Scandirà le ore notturne, 10 giorni al mese, se non ricordo male. Poi le lacrime in tibù del papà di Joelle. Ma voglio soldi. Depositate le intercettazioni sciocche del marito della DJ scomparsa con il figlio, ricorderete, Joelle, nel Messinese. Il messaggero riporta questa notizia. Siamo al fatto quotidiano. Vaccini forzati. Questi paesi ispirano Draghi. C'è solo in Turkmenistan, Micronesia e Indonesia. Questo è quello che scrive oggi il fatto quotidiano. Crisanti è scettico. Il biologo al fatto. Con la Delta rischia di peggiorare le cose. Unione Europea, tutti lo escludono. Il Premier non ha una legge pronta. Per ora vuole stanare la Lega. Insomma, da questa lettura strategica, il fatto quotidiano a proposito del preannunciato obbligo vaccinale. Siamo al giornale. Ecco qui l'obbligo vaccinale soltanto nel 2023. L'EMA frena due anni per l'OKEA Pfizer. Il Governo insiste sul sì entro due mesi, ma prepara il Green Pass esteso. Sì, perché verrà esteso a tutte quelle attività commerciali, ma anche alla pubblica amministrazione, dove è richiesto il Green Pass obbligatorio agli avventori, ai clienti e agli avventori. Sempre dal forum Ambrosetti a Cernobbio. La fiducia delle imprese torna ai massimi livelli. Ora tutti immunizzati. Il Covid non passerà. Charlene, la principessa infranta, malore per la moglie di Alberto di Monaco. Intanto convince Spencer alla mostra di Venezia. Diana, la principessa da film interpretata da Kristen Stewart. È famosa per la saga di Twilight. Ancora dal giornale, Kabul, il kamikaze, ISIS libero grazie ai talebani, il regime annuncia, preso il Panshir, Massoud in fuga. Notizia questa che è stata però, è stata smentita dagli stessi insorti, dagli stessi uomini di Massoud che stanno appunto attivandosi per la resistenza nella regione del Panshir. Le metamorfosi Renzi vuole i volti del centrodestra, scrive Libero. Le manovre dell'ex premier puntare all'altro schieramento per tornare a vincere le elezioni. E c'è il commento del direttore Alessandro Sallusti. La Lega mette alla porta i Novax, bocciata la linea di Borghi sui vaccini, da Zaia a Giorgetti, coro di sì al Green Pass, ma all'obbligo sarebbe troppo. Così libero. Diamo lo sguardo alla prima pagina del domani, domani che sceglie come sua consuetudine, un'apertura completamente diversa da tutti gli altri quotidiani. Si va verso le elezioni amministrative, anche la Lega adesso si vergogna di Durigon e lo nasconde agli elettori. Salvini l'aveva convinto a dimettersi da sottosegretario, con la promessa di un ruolo nel partito, ma nel primo evento pubblico il partito lo nasconde. Ricorderete la vicenda legata all'ex sottosegretario all'economia, Claudio Durigon, che in un comizio a Latina aveva proposto di intitolare il parco riservato a Falcone e Borsellino, di intitolarlo ad Arnaldo Mussolini, una cosa che aveva scatenato un caso politico fino alle dimissioni di Durigon. Per la sinistra è ora di decidere se essere il vaccino la variante del virus, dell'illiberalismo, il formidabile monito dell'economist. si fa quasi un raffronto tra quello che è l'atteggiamento dei populisti rispetto ai liberisti, agli liberisti. Claudio Cerasa, direttore del foglio, prende spunto dal monito apparso sull'economist e con questa apertura il foglio oggi appare in edicola. Siamo sull'avvenire, a pass più veloci, subito cabina di regia, incontri con i sindacati, poi dal 4 ottobre l'estensione dei certificati a dipendenti pubblici, ristoratori, addetti a piscine e palestre. L'avvenire punta l'indice anche su diritti, donne e terrore, i paletti della Unione Europea. A Kabul lasciamo avvenire, siamo sul sole 24 ore, ecco qui, Green Pass è steso ad altri 3 milioni, anche il sole 24 ore parla delle risultanze del forum Ambrosetti, fiducia delle imprese ai massimi, e questo è un buon viatico per la stabilizzazione in positivo della nostra economia. Andiamo a vedere in chiusura anche la Gazzetta dello Sport, perché domani a Basilea l'Italia di Roberto Mancini gioca una partita che potrebbe essere decisiva sulla strada della qualificazione a Qatar 2022, serve il tocco del Mancio, e intanto volley, le ragazze azzurre, sogni d'oro, volley stasera finale con la Serbia, tabù negli europei appunto di pallabolo, europei femminili. Con questo è tutto, ci fermiamo, adesso le notizie, le informazioni sul meteo con Paolo Sottocorona, e poi alle 7.30 con solito appuntamento con la prima edizione, il Tg la 7. Sì, buongiorno. Queste le piogge previste per la giornata di oggi riguardano soprattutto parte del centro e soprattutto il sud. Molte di queste fortissime precipitazioni previste sono sul mare, però fra Sicilia, Calabria e poi le zone interne, vedete, sia del centro che del sud, qualche fenomeno intenso c'è sicuramente. al nord compaiono deboli o moderate piogge pomeridiane molto isolate e se no a ampie zone di sereno. Lo sviluppo è abbastanza rapido, l'evoluzione, perché nella giornata di domani troviamo ridotta questa instabilità forte, questo maltempo al sud con degli strascichi che riguardano Basso Lazio, Campania, in parte l'Abruzzo, però al sud e soprattutto fra Calabria e Puglia ancora inizialmente i fenomeni possono essere più isolati, molto meno intensi del giorno precedente, però ancora sono presenti e qualche fenomeno in maniera isolata, qualche fenomeno più intenso, il colore giallo sapete che corrisponde a forti quantità di piogge ci potrebbe essere anche sulle zone alpine e prealpine, quindi c'è qualcosa in più rispetto ai giorni precedenti. Arriviamo alla giornata di lunedì in cui tutto è quasi tutto, si è attenuato, resta questa instabilità pomeridiana sulle zone alpine e poi soprattutto Sicilia, fra Campania, Basilicata, Calabria e ancora qualche fenomeno, però ancora sul Basso Lazio in realtà c'è una piccolissima zona, però tutto molto isolato, molto sporadico, quindi insomma il miglioramento c'è ed è anche piuttosto rapido diciamo. Vediamo le temperature di questa mattina pressoché stazionarie sono molto simili a quelle dei giorni scorsi, siamo sempre sul filo fra i 18 e i 20 gradi insomma che ormai dobbiamo vedere la stagione sotto altro occhio insomma sono non disprezzabili. Il moto ondoso dei mari è ancora abbastanza presente soprattutto sui bacini occidentali, però insomma oltre molto mosso la zona più scura poi vedete questa zona un po' diciamo va sul viola localmente molto mosso non c'è però insomma non sono tutti totalmente tranquilli. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità poi la prima edizione del nostro telegiornale è più tardi qui non c'è la prima edizione è più tardi che non c'è la prima edizione è più tardi che che non c'è Grazie a tutti.